Nascondevano tra i vestiti una confezione con 70 grammi di cocaina, sostanza che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 12.000 euro. Ma l'involucro è stato trovato dai carabinieri di Montevarchi e da quelli di San Giovanni Valdarno, che hanno arrestato una persona e ne hanno denunciata un'altra. Si tratta di due uomini, entrambi italiani e con precedenti. I militari hanno infatti fermato un'auto con a bordo tre uomini ed insospettiti dall'atteggiamento nervoso di uno di questi, hanno deciso di procedere con perquisizioni approfondite sia del veicolo che personali. Nascosto tra i vestiti di uno dei tre è stato così trovato un pacchetto contenente 60 grammi di cocaina purissima che, una volta tagliata e messa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 12.000 euro. Per l'uomo sono scattate immediatamente le manette. La successiva perquisizione al domicilio di uno dei tre individui ha fatto poi rintracciare un bilancino di precisione che è stato sequestrato. Per l'uomo invece è scattata la denuncia, sequestrata anche la cocaina trovata in auto. Il terzo uomo infine è stato rilasciato poiché sia la perquisizione personale che quella domiciliare hanno dato esito negativo.